ciao a tutti da maurizio di moto.it benvenuti su recensito due sono le parole chiave di un'azienda che da 18 anni crede nella protezione del motociclista e che ci sono rimaste più impresse ovvero sicurezza e innovazione scontate direte voi ma dobbiamo capire come vengono dette sicurezza è la prima cosa a cui pensano i progettisti prima della realizzazione di un nuovo prodotto innovazione perché il motto di aero è che chi si ferma è perduto ed ecco allora che oggi vi mostriamo uno dei prodotti più interessanti di aero ovvero il casco executive un casco modulare quindi all season studiato per il turismo stradale trattasi di un casco con doppia omologazione ovvero integrale e jet è realizzato in una speciale resina termoplastica ad alta resistenza che ha nella sua conformazione struttura il suo bello la mentoniera infatti può essere rimossa come su altri caschi di questo genere ma in questo caso può essere fissata nella calotta grazie a un ingegnoso sistema ovviamente brevettato si sgancia con queste due leve che vedete nella parte bassa si posiziona e si usa come jet e poi per trasformarlo di nuovo integrale si utilizzano queste due leve di sgancio sempre a proposito di genialità e praticità di utilizzo la visiera ha un sistema furbissimo di sgancio e gancio se ne vedono pochi di caschi con un sistema così veloce e pratico basta quasi una mano visto che parliamo di visiera vi facciamo poi notare un'altra cosa molto importante la sua lunghezza è studiata per non sormontare la mentoniera cosa significa questo una volta rimossa la mentoniera ovvero in configurazione jet la visiera farà comunque passare molta aria ma l'executive è ricco di sorprese pensate che nel polistirolo all'interno è ricavato anche il vano per posizionare lo stop wind quando non è installato sempre nel polistirolo è ricavato anche il vano per posizionare l'eventuale interfono per concludere aero ha pensato di fare anche il collarino della zona della nuca rimovibile così da rendere il casco più fresco anche d'estate accessori è disponibile il viserino pin lock difetti non ce ne sono ma dobbiamo farvi osservare che una s corrisponde circa a una m varianti colori abbiamo le strips in due grafiche bianco e arancio e poi sei colorazioni diverse tagli andiamo dalla xs alla xl peso 1470 grammi prezzi a partire da 269 euro e 99 ciao a tutti da maurizio di moto.it vi aspetto alla prossima puntata di recensito ciao a tutti da maurizio di moto.it benvenuti a recensito dovete sapere che è un sandwich di più materiali la vestibilità è piuttosto stretta ma addentriamoci nel dettaglio quali sono le caratteristiche principali infatti pesano circa un terzo in meno rispetto alle batterie tradizionali vanta diverse accortezze e soluzioni che solitamente troviamo su giacche di fascia più alta si nota poi il sistema di ritenzione a cinghia con doppio anello